La mia famiglia Italiano principianti A1 La mia famiglia I miei nonni Mio nonno Mia nonna Il marito La moglie I figli Mia mamma Mia madre Mio zio Mio babbo Mio padre I miei genitori Io il figlio Le mie sorelle Le figlie Il fratello La sorella La sorellina Mia zia I miei zii I miei cugini Mia cugina Mio cugino I fratelli I nipoti I suoceri La suocera Il suocero Il genero La nuora La cognata Il cognato Ecco la mia famiglia Lui è mio nonno Lei è mia zia Lui è mio zio Lei è mia cugina Lui è mio cugino Lei è mia nonna Lei è mia mamma Lui è mio babbo Sono io Lei è mia sorellina Lei è mia sorella Lei è mia sorella Le coppie Associa le coppie come l'esempio La mamma La sorella La zia La cugina La nonna La moglie La suocera La figlia La nipote I genitori Il figlio Il nonno Il marito Il babbo I figli Il nipote Lo zio Il suocero Il fratello Il cugino La mamma Con il babbo La sorella Con il fratello La zia Con lo zio La cugina Con il cugino La nonna Con il nonno La moglie Con il marito La suocera Con il suocero La figlia Con il figlio La nipote Con il nipote I genitori Con i figli Tocca a te Siamo tutti qui Chi gioca sul computer? Mio fratello gioca sul computer Dov'è tuo fratello? Mio fratello è in bagno Chi è in cucina? Mia mamma è in cucina Chi è in camera da letto? Mia sorella è in camera da letto Dov'è tuo nonno? Mio nonno è in sala da pranzo Dov'è tua nonna? Mia nonna è in salotto Dialogo Buonasera, come stai? Buonasera, non c'è male, e tu? Bene, grazie Come sta la tua famiglia? Abbastanza bene, grazie Hai fratelli e sorelle? Ho due sorelle piccole Quanti anni hanno? Le mie sorelle Le hanno 7 e 5 anni Vanno a scuola? Sì, vanno a scuola Vai d'accordo con le tue sorelle? Vado un po' d'accordo con le mie sorelle Ogni tanto sono noiose Capisco E i tuoi genitori come stanno? I miei genitori stanno bene, grazie Lavorano molto Tutto a posto allora Tanti saluti a casa tua Grazie Ci sentiamo A presto Una produzione di Cotoba www.cotoba.ch Copyright Christine Fincher Taxe Taxe Grazie Grazie a tutti.